Più che la carica verificare ciò che ci eravamo detti e scritti all'interno ovviamente di un verbale stilato, firmato da me, approvato via web dal direttore generale Ciamponi e firmato dal direttore sanitario Antonio Caponetti. Avevamo stilato dei punti, ci eravamo dati due settimane di tempo perché sono andato il 13 agosto quindi a cavallo appunto del Ferragosto. Adesso è il momento di tornare e verificare quali punti sono stati adempiuti rispetto a delle idee che avevamo lanciato all'interno di questo verbale. Lei aveva toccato un po' con mano quello che accade nel pronto soccorso di Pescara qualche settimana fa adesso soprattutto preoccupa proprio la carenza di medici, la carenza di personale sanitario. Mi era stato assicurato che al ritorno dalle ferie dei medici, quindi la turnazione delle ferie quindi diciamo dalla prossima settimana sostanzialmente, sarebbero stati delegati a scendere sotto il pronto soccorso dei cardiologi, dei geriatri e insomma altre figure mediche per potenziare appunto il pronto soccorso per quanto riguarda le visite mediche. Già questo potrebbe essere e sarebbe un buon risultato ovviamente c'è da migliorare tante altre cose che sono scritte in quel verbale tipo un infopoint per i parenti che restano fuori per sapere ovviamente soprattutto riguardante le persone anziane perché poi le persone diciamo giovani e meno anziane al cellulare possono comunicare con i parenti attraverso il cellulare. Per queste persone anziane o per le persone che arrivano ovviamente incoscienti all'interno del pronto soccorso sapere quale tipo di situazione versa il proprio parente. Un potenziamento di bareglieri perché ovviamente ho assistito anche a una situazione di mancanza di bareglieri c'erano persone che aspettavano. Una sistemazione più adeguata dei pazienti che aspettano perché c'erano tutti assembrati. Insomma c'erano delle situazioni che bisognavano migliorare perché il pronto soccorso è bello ma i problemi erano quelli vecchi del pronto soccorso tra virgolette vecchio. Per cui prossima settimana tornerò insieme al mio amico e collega di partito Berardino Fiorilli per verificare ciò che abbiamo scritto corrisponda praticamente a realtà.